wow, sta costruendo una casa che bella wow, che fiori bellissimi oh, hanno un profumo così buono ho ricevuto una consegna per Jason e Sara il campanello il campanello sta per consegnare quattro gattini mi chiedo chi sia controlliamo ciao ciao, consegna per Jason e Sara wow, grazie adoro i gattini grazie mille ok, Sara metto qui i micini e vado a prendere loro del cibo Sara, di cosa hanno bisogno, i mici? devono bere un po' di latte perfetto dove sono i gattini? andiamo a cercarli gattini, dove siete? senti il rumore di un gattino forse è in questa scatola no forse è in questa no che ne dici di questa rossa? non meno il gattino è qui evviva l'ho trovato finalmente devo trovarne altri tre forza forza entra qui troviamo altri micetti gattini dove siete? sono qui no oh, qui non ci sono e qui? no gattini dove siete? dove siete? li ho trovati oh ecco ti qui ora ti riporto indietro riportiamolo indietro e ora mettiamolo nel cestino e troviamo gli altri oh no forse sono qui ah, che confusione che hanno fatto i micetti? cosa? ancora? oh no vedo i micetti ho trovato un gattino sì e vai e traforza evviva abbiamo già tre gattini ne manca ancora uno ma dov'è? andiamo a cercarlo forza che è successo qui? da dove viene tutto questo? chi è stato? oh no oh sento il gattino eccolo ti riporterò indietro e ora l'ultimo sì abbiamo trovato tutti i gattini ce l'abbiamo fatta Sara ti va di metterli nella loro scatola? facciamolo e vai grazie per aver guardato iscriviti a Jason Vlogs ci vediamo nel prossimo video ciao ciao ehi che succede? che cosa sta succedendo? aiutiamo i gatti forza Jason yeah guarda i gatti hanno bisogno di aiuto aiutiamoli forza sì Alex dobbiamo proprio aiutarli sì dobbiamo farli uscire dall'acqua pensiamo a qualcosa raccogliamo un po' di frutta uno due e tre questi dovrebbero aiutarli proviamo Alex hai preso la frutta? sì ho preso la frutta dai forza ok andiamo non voglio andarci per primo vai tu ok andrò per primo dobbiamo salvare i gattini uno due ok ancora un altro e tre ah sono quasi arrivato oh no la frutta sta affondando Jason prendi qualcos'altro per aiutarmi sto affondando Jason ti prego devi salvarci troverò qualcosa ok ok sono pronto aiutami Jason sei troppo lontano fratello oh no oh no Jason sei troppo lontano prendi qualcos'altro vai vai oh no anche lui è affondato oh no di cosa ho bisogno? questo può servire questo va bene molto bene allora sei pronto Alex? certo che siamo pronti siamo molto pronti oh no siamo troppo lontani oh no non ci credo oh no adesso che facciamo? troviamo un altro modo sì troverò un altro modo spero che Jason trovi un buon modo dobbiamo prendere la scala wow questa è una buona idea wow Jason proprio così sì sì vieni qui bravo bravo Jason buon lavoro grazie ok tu prendi questo gatto e io prendo l'altro dai andiamo salviamo i gattini forza ti salverò gattino sì abbiamo salvato i gatti ottimo lavoro Jason ciao ciao che colore è questo? e questo che colore è? questo che colore è? fofo e questo invece? questo colore che cos'è? lui non conosce i colori sta solo giocando dovrò insegnarglieli andiamo verso i palloncini ti insegnerò i colori colori? ecco il rosso questo è il zallo il verde l'arancione non conosce ancora i colori portiamolo a scuola perché no? va bene fai sul treno ciuf ciuf per favore pronto? pronto a partire? pronto andiamo ciuf ciuf impariamo insieme ok impariamo con le macchine questo che colore è? verde ottimo lavoro spingila e questa di che colore è? arancione ottima risposta e questa che colore è? boh davvero molto bravo e questa invece? boh ho fa mentre questa è? talla molto bene alla fine ha imparato i colori ciao ciao ciao